eh sì che bei posti che vi fa vedere officina pubblico di officina noi siamo sempre in attività come vedete vi facciamo vedere questo stupendo panorama questo bellissimo tramonto dal mare di portorecanati bellissimo dove qui però c'è qualcuno chi c'è qua occhio che sto per cadere su questa spiaggia stupenda bellissima allora ti stavi godendo il tramonto di la verità sì perché sta benissimo anche di temperatura veramente spettacolo e ci abbiamo anche il monte conero eccolo qua a due passi ci siamo fermati perché ecco ve lo facciamo vedere vi facciamo sentire proprio il suono delle onde sentite un po' Angelo si assorta nelle onde si si perché mi rilassa molto poi prima di cena ci vorrebbe sempre una mezz'oretta secondo me in riva al mare esatto adesso è il momento in cui no la gente va a mangiare quindi diciamo il mare il mare si svuota capito quindi si svuota si va a mangiare e noi oggi sai dove siamo? siamo qua in questo bel ristorante affacciato proprio come vedete al monte conero siamo a portorecanati zona scossicci si aspetto bye bye a tutti ciao 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 ciao